Nonno! Vello, Vello, che stai facendo? Vai via, brutto brutto! Perfetto, ma che stai facendo? Povero il tessuto per non servire nulla, non serve a niente! Anch'io di questa porta! Ora questa sera devo rompere scatola al dottore. Pronto? Sì, buonasera dottore. Mi scusi dell'ora, ma la prego di venire subito. Sì, la solita crisi! Grazie, l'aspetto. Mi prego, cercate di vestire davvero l'assù. No, mio caro Gattone. Zizi Ciamè non eseguirà la danza delle scappette rosse, né ora né mai. E va bene, non devo mettere solo cazzi, d'accordo? No, Gattone. Zizi Ciamè è morto. E va bene, non devo mettere io piano piano, piano piano. Non lo sai come morto. Come essere morta? So! Si inghiozzando per il suo amore. E Dante, prego, tu mi devi aiutare un pochettino, però, eh. So, Pallello, che cosa stai facendo? I tuoi spettatori ti stanno aspettando. Apri questa porta, su, apri la porta, Lello. Apri la porta, amore, dai! Occhia, Pallello, se chi vede in questo stato ti fa ricoverare al manicomio. Apri la porta. Apri la porta! Pallello, guardia, rovina! No, non voglio che mi vedi. Io sono brutta, sono brutta! Oh, Gattone, sapessi quanto so. Lo so, te, so, te passerà, te passerà. Ma sei fatta! Ciò è tutto esaurito. Ti ricordo che abbiamo tante spese e che gli unici guadagni vengono dai clienti del locale. Arriveranno che quella gente si stancherà di aspettarmi e non trovi in bari in modo di essere pronta in orario. Sei pronta solo per spendere tutti i nostri soldi, gioielli, pushebbi e manicure. Tutte le vedette devono anzi da fare il chiaro, Nello. Ecco, ecco quello che sono per te. Soltanto una mucca da mungere. La banca mi ha detto che siamo proprio in cattive acque. Io mi arrabbio, e te non capisci niente. Ti rammollisci, stando sempre a letto. Una volta avevi un decoltè strepitoso. Ora, sembri fatta di pasta frode. Penso la banca a bollito. Che farai, stancherò di te? Che farai quel giorno? Mai, mai pensare nei sentimenti. Quello che ti importa è soltanto del tuo show. Neanche del nostro, ma del tuo. Beh, lo sai che ti dico? Che io voglio filmare gli alimenti per la separazione. E lo voglio fare adesso, così domani volo danno taglio. E metto fine a questa triste storia che va avanti da vent'anni. Mi dispiace, ma per il momento ho finito fuori il protocollo. Non vai a che fare lo stesso. E poi, mio carolello, a giorni, giorni, ci sono i dico. Ah, ma quale dico, 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 dico? E non parlarmi con quel tono. Ma quale tono? Quel tono sarcastico e presuntuoso. Certo, certo, tu sei tutto. Perché sei un uomo. E io invece non so niente, perché sono una donna. Ma tu non sei una donna. Ma sei un uomo.